Fabrizio Speranza di Sogin, in che modo potete sfruttare la blockchain per poter tracciare il ciclo di vita dei rifiuti? È certamente possibile utilizzare la blockchain per tracciare il ciclo dei rifiuti, anzi credo che nel caso di Sogin, che ha in carico il decommissioning di tutti gli impianti nucleari italiani e si occupa di decommissioning nucleari anche all'estero, è quanto mai opportuno, nel senso che abbiamo utilizzato una tecnologia innovativa come la blockchain, su una blockchain public e permissionless proprio per dare maggiore trasparenza e maggiore sicurezza alla nostra nuova piattaforma di gestione di oggetti e rifiuti radioattivi.